Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati. Oggi ci ho messo un po' di più perché mi sono preso la briga per l'NV News di andarmi a leggere, devo dire che ho fatto un po' di fatica, ma la manovra finanziaria, il maxi emendamento e quindi le varie formulazioni della manovra finanziaria, ho fatto un po' di fatica intanto perché non sono abituatissimo a leggere i documenti parlamentari, li leggo ogni tanto, soprattutto quando riguardano i temi ambientali, poi perché appunto il documento finale è sempre il risultato di emendamenti, diverse letture dalla Commissione, alla Camera, al Senato, al ritorno, quindi lo ammetto, faccio un po' di fatica. Detto questo, mi sono andato a segnare, me ne sono appuntate in questo foglio ricco, i temi, diciamo, gli diversi punti della manovra che in qualche modo hanno a che fare con l'ambiente. Ho provato a elencarli, sicuramente non è esaustivo, così come occorrerà poi verificare punto per punto due questioni principali. La prima è laddove sono previsti dei decreti attuativi, quindi i ministeri competenti dovranno emanare dei decreti attuativi affinché ciò che è previsto dalla norma lo diventi per davvero. La seconda è che molte di queste misure affondano il loro senso nel triennale, nel bilancio triennale, e quindi come tutti i bilanci triennali bisognerà poi capire come va quest'anno per vedere se si possono mantenere le cose scritte o bisogna rimodularle. Ma mi sono segnato otto punti. Il primo sono i terreni demaniali, i terreni demaniali che vengono concessi gratuitamente per vent'anni a una famiglia che nell'arco del triennio 2019-2021 abbia il terzo figlio. Accanto a questa manovra viene attivato un accesso al credito da 200.000 euro al tasso zero, quindi chi accede a questi terreni può automaticamente accedere a un mutuo a tasso zero per 200.000 euro per, diciamo, si legge, ma bisogna poi capire bene i confini, acquisire, aggiungo io, capire se è solo l'acquisizione o la ristrutturazione. Comunque, l'immobile a servizio del terreno agricolo. La seconda misura l'ho battezzata IRS verde e cioè sono incentivazioni fiscali per quelle imprese che in qualche modo riducono il loro impatto ambientale. Anche questo, devo dire, dovrei poi approfondirla meglio per cercare di capire se è solo il processo produttivo che in qualche modo viene riorganizzato per ridurre l'impatto ambientale o se ci sono anche altre misure, però diciamo che c'è un'incentivazione fiscale alla diminuzione dell'impatto ambientale. Ci sono poi 15 miliardi, quindi diciamo la grossa parte della manovra, per investimenti pubblici. All'interno di questi investimenti pubblici ci sono 2,6 miliardi per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e ci sono alcuni fondi, non sono stati in grado di capire quanti, per l'efficientamento energetico sempre per gli immobili pubblici. Anche questo, andremo poi a vedere nel prosieguo quanti soldi verranno esattamente stanziati e a quali tipi di immobili. Ci sono tutta una serie di proroghe, fortunatamente aggiungo io, su misure attuate dai governi precedenti che sostanzialmente rientrano in quella grossa famiglia di bonus casa o ecobonus. Per cui per il 2019, qui è specificato, quindi non si sa se sarà per il triennio 2020-2021, ma sicuramente per il momento solo fino a 2019, detrazioni per ristrutturazioni ecobonus, quindi sostituzioni infissi, cappotti, eccetera, tutta la parte energetica, fino a un massimo di 100.000 euro. C'è una proroga appunto dell'efficientamento energetico invernale, per cui quello che dicevo prima, fino a un massimo di 96.000 euro. C'è il bonus dell'acquisto di elettrodomest... sostituzione di elettrodomestici in classe A+. E c'è la proroga del cosiddetto bonus verde, che era stato introdotto lo scorso anno, e quindi riduzione fino a 5.000 euro del 36% per investimenti nel verde privato, dalla irrigazione alla gestione, alla progettazione del verde privato. Ci sono due novità sulla mobilità. Una è la famosa ecotassa, di cui abbiamo sentito parlare, che un po' ha scatenato anche alcuni conflitti politici. Nella manovra si legge che le auto che emettono tra 161 e 175 grammi di CO2 per chilometro, quindi siamo in una fascia di berline diesel mediamente inquinanti, pagano 1.100 euro di ecotassa, quelle che emettono tra 176 e 200 grammi di CO2, 1.600, quindi qua andiamo a di cilindrate piuttosto alte, 201-250 grammi di CO2 a chilometro, pagano 2.000 euro oltre i 250 grammi CO2, quindi, come dire, andiamo sulle Ferrari e sulle grosse Porsche, pagano 2.500 euro di ecotassa. Un altro ecobonus, invece, in questo caso un ecobonus, viene dato a chi rottama il proprio scooter a patto che sia categoria euro 0, 1 e 2 e compra e acquista uno scooter elettrico. Certamente tutti gli amici vespisti non venderanno le proprie vespe, perché ormai sono oggetti da antiquariato, ma se uno avesse degli vecchi scooter e volesse passare a quello elettrico, può avere un ecobonus. Ci sono due misure, diciamo, ad hoc. Una riguarda la città di Taranto, in cui vengono stanziati 100 milioni di euro all'anno per tre anni, quindi 300 milioni in tutto, per una riconversione e una risistemazione di alcune aree ex silva. E l'ultimo che anche questo aveva fatto discutere già in passato e ha rifatto discutere politicamente il governatore della campagna De Luca col governo è l'inceneritore di Acerra. Per chi non lo sapesse, lo Stato italiano girava 30 milioni di euro all'anno alla regione Campania come sorta di compensazione d'affitto di quell'inceneritore fin dal 2010, soldi che in qualche modo, adesso non ricordo bene, ma dovevano servire poi al riscatto finale in modo che l'inceneritore divenisse di proprietà della regione Campania e fossero anche utilizzati a compensazione. Ecco, questo fondo è stato tagliato, quindi lo Stato non girerà più 30 milioni di euro all'anno alla regione Campania, ma vengono allocati in un cosiddetto fondo bonifiche. inizialmente questo fondo doveva proprio servire per la terra dei fuochi, so che c'è stato un po' di maretta tra governatori delle regioni del nord che appunto evocavano il fatto che ci sono molte bonifiche da fare anche nel nord, quindi in genere al momento i fondi, i fondi, sì, i soldi sono allocati in un fondo più generico per le bonifiche che se ricordo bene i siti di interesse nazionale da bonificare sono 39, quindi dai molti e credo che vadano un po' poi spalmati o comunque decisi deciso dove utilizzarli. C'è anche una norma sugli stabilimenti balneari, ma confesso non sono preparatissimo sulle concessioni dei balneari e quindi invito chi invece fosse interessato andarsela a cercare. Ecco, questo più o meno grossolanamente è quello che ho trovato nella lettura della manovra. Vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi i vari decreti attuativi e quindi man mano come queste misure verranno attuate e se come auspichiamo tutti danno le misure previste, gli obiettivi previsti o invece malauguratamente no. Vi ringrazio, vi do appuntamento a domani e non mi resta che augurarvi una buona giornata. Ciao, ciao!